ciao amici ed amiche di youtube ben trovati a questa nuova puntata del cielo della settimana che è una puntata particolarmente ricca e che mi emoziona moltissimo perché oggi cominciamo a buttare un primo occhio nel 2024 raccontando alcuni punti di questo libro che trovate in tutte le librerie oroscopo 2024 il giro dell'anno in 365 giorni più uno ma prima di entrare nel vivo le solite raccomandazioni iscrivetevi al canale che sarà sempre più grande e più bello attivate la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite e se volete leggere l'oroscopo della settimana in corso trovate il link qui sotto allora se stiamo pronti partiamo allora io direi che possiamo entrare nel tema della serata che è un tema largo perché questa sera così nei paraggi della luna nuova in scorpione il segno dello scavo il segno dell'approfondimento dell'indagine una luna nuova alla quale ho già dedicato un approfondimento che trovate su youtube cominciamo a buttare un occhio in questo 2024 si tratta di alcune prime suggestioni poi ne parleremo sempre più approfonditamente però cominciamo a tracciare i contorni a matita di un anno che si preannuncia veramente molto molto importante ovviamente questo di cui parlo sono semplicemente alcuni piccoli input tutto quello che so del 2024 l'ho messo nel libro ve lo faccio vedere ma ovviamente già ne lo conoscerete oroscopo 2024 il giro dell'anno in 365 giorni più uno torneremo sul tema più e più volte lo sveleremo un pezzetto alla volta però cominciamo a tratteggiare i contorni di un anno molto importante perché è un anno che riporta plutone in acquario parliamo di un pianeta lentissimo che ci mette 248 anni a fare un intero giro e quindi plutone torna in acquario dopo 248 anni ed è il transito più importante poi parleremo anche degli altri transiti plutone in acquario dopo 248 anni il pianeta del potere plutone e delle paure superate le quali ci riprendiamo in mano le redini delle nostre scelte nel segno l'acquario dell'innovazione della libertà dell'indipendenza dello spirito di ribellione e del fatto di non avere padroni tant'è che e poi entriamo nel vivo sulla quarta di copertina del libro c'è questa frase plutone è il pianeta che più di ogni altro ha il potere di cambiarci la vita con il suo ingresso nel 2024 in acquario segno che non conosce padrone la sua missione e renderci tutti più liberi e autentici partiamo da qui perché questo è esattamente l'imprinting del nuovo anno plutone mancava in dall'acquario dalla seconda metà del settecento che è un periodo che chi ricorda un po di storia associa immediatamente a tre grandi eventi che sono la rivoluzione francese la rivoluzione industriale e l'indipendenza americana e senza entrare nel merito storico politico di questi fatti sono esattamente i tre grandi pilastri tematici e simbolici su cui poggia il nuovo anno con plutone che ritorna in acquario da quell'epoca la rivoluzione industriale è progresso e quindi uno di questi tre pilastri è proprio il progresso inteso come l'inventare qualcosa di nuovo che mi permetta di fare qualcosa che fino ad oggi non sono riuscito a fare non soltanto ovviamente dal punto di vista tecnologico anche se probabilmente inizierà un periodo di grande progresso ma a livello personale intimo individuale di ognuno di noi progresso significa trovare un modo una soluzione diversa dal passato per oltrepassare un confine di fronte al quale ci siamo sempre fermati per oltrepassare un muro sul quale finora c'è stato scritto non si può fare e invece da oggi in poi si può fare e come questo è il primo pilastro chiamiamolo progresso il secondo pilastro è quello della rivoluzione francese e quindi la ribellione contro tutto ciò che opprime e quindi il fatto di dire se c'è qualcosa che finora mi ha fatto sentire sotto scacco svantaggiato che mi ha tenuto con le mani legate che mi ha chiuso la bocca che mi ha messo con le spalle all'angolo che mi ha portato a fare ciò che non volevo fare o che mi ha svalutato arriva il momento di sbloccarlo di rompere questo gioco di rompere queste catene quindi progresso è il primo pilastro ribellione è il secondo pilastro il terzo è proprio quello della rivoluzione americana ed è l'emancipazione e per certi versi è il più importante di tutti sono strettamente collegati ma emancipazione proprio come le americhe del settecento dalla casa dalla dalla patria madre dall'inghilterra significa camminare con le sole proprie gambe significa prendere la propria strada aprire la porta di casa e dire famiglia grazie adesso sono pronto o pronta a fare la mia strada a imboccare quella che è la mia direzione sono pronto o sono pronta ad eliminare delle impalcature esterne che finora mi hanno sorretto e sostituirle da una spina dorsale interna che dipende da me e quindi in qualche modo anche a costo di perdere certi punti d'appoggio sono pronto a fare da solo questi tre paletti progresso ribellione ed emancipazione sono esattamente i perni attorno ai quali gira il 2024 per tutti e 12 i segni ognuno in base a quello che il proprio vissuto ma provate ad immaginare il muro sul quale c'è stato scritto finora non si può fare le situazioni che vi hanno tenuto bloccati o che vi hanno addirittura oppresso e tutto ciò che vi ha portato a camminare tenendo la mano di qualcuno sono esattamente quelle le situazioni in cui nel 2024 saltano i tappi sono esattamente quelle le situazioni in cui nel 2024 si spezzano alcune catene questo è il primo diciamo punto ed è il più importante l'inizio di un ciclo che durerà vent'anni e che ci consegnerà anche a livello macro tantissimi cambiamenti ma soprattutto e poi entriamo nel merito dei segni ma soprattutto per trarre uno scenario intimo di ognuno di noi il primo il primo punto è questo qui il secondo punto è saturno che entra in pesci che è un segno dove dal 2012 c'è nettuno nettuno pianeta del sogno pianeta delle ispirazioni pianeta del desiderio di andare oltre incontra saturno che è il signore della regola della struttura e questo significa esattamente in tandem con plutone in acquario un cielo che permette di trovare la giusta struttura la giusta impalcatura per sostenere quello che è il nostro sogno e quindi non più soltanto un desiderio vago non più soltanto un'aspirazione così alla quale che accarezzo mentalmente ma qualcosa che trova una sua strada una sua struttura una sua strategia un suo percorso e quindi pensate alla potenza di questo cielo sto parlando a segni unificati da un lato la spinta di ribellione spartacus che spezza le catene e dall'altra il desiderio di costruirsi una strada che giorno dopo giorno passo dopo passo possa portare a realizzare un sogno che ci portiamo dentro dalla bellezza di 11 anni e questi due questi due scenari lavorano in tandem proprio perché la ribellione di cui parliamo il momento di indipendenza di cui parliamo non è un momento per poi ritornare nei ranghi ma è un momento per poi cominciare qualcosa di nuovo e quindi questo concretamente significa stabilire una traiettoria prendersi le licenze le autorizzazioni i requisiti che servono essere avere le carte in regola per fare qualcosa di diverso avere le giuste basi economiche per dire basta ad un lavoro che non mi piace più e concedermi un cambiamento significa arrivare preparati anche da un punto di vista tecnico anche da un punto di vista concreto a qualcosa di nuovo che ha il senso della ribellione questo un po lo scenario lo trovate nel libro e ancor più lo trovate nel qr code che c'è nel libro perché io addirittura sono tornato indietro storicamente a tutti i precedenti di plutone in acquario di questo millennio la seconda metà del settecento ma anche il cuore del cinquecento quando c'è stata la rivoluzione copernicana quando c'è stata l'invenzione della macchina da stampa e l'inizio del progresso e poi ancora indietro ma andiamo nel merito dei vari segni nel libro ad ogni segno associo un film per raccontare un po lo scenario di come si arriva al 2024 e di quale quali saranno i grandi cambiamenti del 2024 adesso non ve li svelo tutti i film ma facciamo un gioco riunifichiamo i film in tre i segni in tre gruppi e ad ogni gruppo dedico un film che in qualche modo esprime ciò che quel gruppo farà nel nuovo anno e il primo gruppo naturalmente è quello composto dai segni cardinali quindi la riete il cancro la bilancia e il capricorno sono quattro segni accomunati dal fatto di essere l'inizio delle stagioni la riete inizia la primavera il cancro inizia l'estate la bilancia inizia l'inverno l'autunno il capricorno inizia l'inverno e hanno proprio questa caratteristica dell'intraprendenza negli ultimi 15 anni a partire dal 2008 si sono confrontati con un plutone in capricorno e quindi in opposizione al cancro in quadratura alla riete e alla bilancia questi sono segni che esprimono la voglia di fare di iniziare cose nuove di decidere cosa vogliono fare come quando con chi negli ultimi 15 anni sono stati costantemente bersagliati da situazioni che hanno frenato la loro intraprendenza che hanno messo i bastoni tra le ruote che gli hanno messo un limitatore che l'hanno portati a scontrarsi contro certi limiti oltre i quali non si riusciva ad andare che hanno creato continui contrasti con l'autorità mettetela come volete ma quello che conta è che dentro c'erano delle insicurezze che andavano sconfitte allo scopo di poter fare le proprie cose in piena libertà e in piena intraprendenza e quindi questi segni sono 15 anni che lottano esternamente ma che lottano contro se stessi la riete contro la paura di diventare grande contro la paura di prendersi le proprie responsabilità di fare le proprie scelte anche quando vanno contro le scelte dell'ambiente circostante il cancro la propria paura di perdere la presenza dell'altro e quindi la tendenza ad accettare tante situazioni svalutanti pur di non essere abbandonato la bilancia il fatto di mettersi in prima linea di parlare di dire le sue cose di puntare su se stessa di prendere la propria strada in autonomia in solitaria lasciando la mano di un mentore di qualcuno con cui aveva camminato fino a quel momento e il capricorno il fatto di prendere sempre tutto così sul serio e darsi sempre dei traguardi così ambiziosi di vivere soltanto sul filo del dovere della performance del risultato per paura sotto sotto di non essere abbastanza di se non faccio il massimo non sono abbastanza questi quattro segni a partire perché vi racconto questo perché torniamo indietro di 15 anni perché questi quattro segni a partire da gennaio quindi subito si liberano di plutone dopo 15 anni e quindi è come rompere un sortileggio di un'insicurezza che ha tenuto bloccati negli ultimi 15 anni che sono chiaramente un periodo lungo nell'arco del quale c'è stato un triennio 2018 19 e 20 dove probabilmente i quattro segni cardinali hanno affrontato alla massima potenza e con la massima intensità tutto ciò che rappresentava una paura tutto ciò che rappresentava un blocco e quindi sono stati forse gli anni degli scontri più duri quelli di fronte ai quali pensavano forse di non farcela ma sono stati anche gli anni che gli hanno fatto capire quanto potere avessero dentro quanta forza d'animo avessero attraverso una serie di scontri gli hanno mostrato che forza avevano adesso tutto questo ce lo lasciamo alle spalle per cui abbiamo un 2024 dal quale i segni cardinali si liberano di un grosso peso di una grande zavorra di un grosso cono d'ombra ritornano nella luce ritornano nella ad emergere a poter tirare fuori la testa da una trincea ritornano a poter puntare su se stessi ma soprattutto tolto un freno a mano è come se quel motore che negli ultimi anni si è scaldato continuamente potesse finalmente esprimere la propria potenza tutto questo viene raccontato nel libro in maniera dettagliata questo è solamente un assaggio però c'è un film che racconta lo stato d'animo di tutti questi quattro segni cardinali lo ripeto sono la riete il cancro la bilancia e il capricorno e il film è billy elliot ed è proprio da una parte il riaccendersi il capire che cosa ti può portare lontano qual è la tua strada imboccarla e percorrerla anche se ti porta lontano dal tracciato della famiglia non so se ve lo ricordate billy ha 11 anni vive in un villaggio della costa inglese minuscolo che conosce solo due verità che sono la box e la miniera e lui non si rispecchia in nessuna delle due ovviamente non sa semplicemente di non appartenere a quell'ambiente ma non sa come uscirne fuori finché non scopre la passione per la danza passione della danza che ovviamente lo mette in contrasto con la famiglia con il padre con il fratello con tutto l'ambiente che ha attorno e con tutti quei paraocchi mentali di ciò che la società si aspetta che tu faccia piano piano nel corso del film trova dentro di sé la determinazione si riaccende e c'è una scena che fa pensare a questo 2024 per tutti e quattro i segni cardinali ed è la scena in cui billy danzando attraversa il villaggio si chiude in un bagno pubblico e fa saltare la porta con un calcio in questa esplosione in questo spezzare le catene ci sono dei segni cardinali ariete cancro bilancio e capricorno che dal 2024 tornano a fare ciò che vogliono e non ciò che devono superando una insicurezza che nasce dalla paura di non aderire a ciò che l'ambiente si aspetta da te ovviamente si potrebbe dire tanto 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 di più però qua stiamo tracciando solamente alcuni contorni passiamo ad un secondo gruppo quello in cui di cui fanno parte il toro il leone lo scorpione e l'acquario questi si chiamano segni fissi perché sono i segni che corrispondono al mese centrale di ciascuna stagione pensate il toro che il cuore della primavera il leone il cuore dell'estate lo scorpione il segno del mese il cuore dell'autunno e l'acquario è il centro dell'inverno questi sono i segni dove la stagione raggiunge il suo regime dove la le qualità climatiche della stagione cominciano ad affermarsi a stabilizzarsi quindi sono segni che amano i punti fermi che amano le certezze che amano molto meno il cambiamento sono dei grandi accumulatori di energia sono delle batterie hanno delle risorse infinite dove fanno fatica è a cambiare perché si prendono i loro tempi non amano le cose agli inizi non amano le situazioni che non vanno come previsto fanno fatica a lasciare andare fanno fatica a perdonare a cambiare immagine quindi diciamo che tendono a essere stabili peccato però che come saprete benissimo se appartenete a questo gruppo anche con l'ascendente nel cielo dei segni fissi lo ripeto il toro il leone lo scorpione e l'acquario dal 2018 di fisso non c'è nulla perché è arrivato urano in toro e ha cominciato a creare una serie di scosse una serie di cambiamenti di situazioni che sono andate in maniera diversa dalle previsioni di situazioni che sono state anche destabilizzanti allo stesso tempo però è vero che nell'animo dei segni fissi toro leone scorpione e acquario dal 2018 è apparso un desiderio di reinventare certe dinamiche di mostrarsi in una luce diversa di svecchiarsi di di fare qualcosa di differente o comunque non ci si è più riconosciuti in certi dogmi di sempre peccato però che poi poco dopo arriva saturno in acquario e quindi questi quattro segni si trovano un po tra due mari si trovano un po in in mezzo a un guado dove forse non sono più ciò che erano sempre stati ma non sono neanche qualcosa di nuovo non sono sono lontani dalla costa che hanno alle spalle ma non sono ancora sbarcati in un nuovo continente a metà a cavallo in un attraversamento del mar rosso che è stato spesso estremamente destabilizzante arriva il 2023 e succedono due cose saturno lascia l'acquario quindi lascia l'opposizione per il leone lascia la quadratura per il toro e per lo scorpione e pone fine ad un triennio 2021 22 23 estremamente incostante estremamente destabilizzante dove veramente qualcuno si è sentito né carne né pesce né ciò che era sempre stato né ciò che voleva diventare ed inizia un nuovo cielo che invece comincia a far percorrere quelle ultime bracciate nell'attraversamento di questo mar rosso verso una terra promessa ed ecco che il 2024 con plutone che entra in acquario fa saltare i tappi le ultime reticenze le ultime paure di cambiare le ultime paure del giudizio degli altri le ultime paure di non piacere le ultime le ultime cose non perdonate gli ultimi legami col passato arriva e li taglia tutti laddove tutto questo ha il senso di una liberazione perché è come se nel cielo del toro dello scorpione del leone e dell'acquario il moto da luogo e quindi la sensazione di non essere più ciò che si era sempre stato ormai è forte da anni è il moto al luogo cioè il dove andare il come fare il cosa diventare il dove trasferirsi il dove mettere radici il luogo da chiamare casa era tutto questo che era ancora fumoso con quest'ultimo passaggio si riesce anche a buttare l'ancora in un nuovo porto e quindi a ricominciare a costruire qualche cosa di diverso vincendo la paura di tutto ciò che arriva di nuovo nel caso del toro vincendo la paura di non essere approvati dal proprio pubblico di non ricevere un applauso di non di disattendere le aspettative degli altri come nel caso del leone riuscendo a perdonare uno strappo che risale al 2012 dal 2012 al 2015 nel caso dello scorpione e prendendo finalmente una posizione dicendo decidendo ciò che si e ciò che è no nel caso dell'acquario c'è un film che li racconta tutti quanti in questo cambiamento del 2024 ed è i sogni segreti di walter mitty film meraviglioso con ben stiller in cui lui sogna una vita eroica sogna di fare grandi cose sogna di salvare fanciulle che sono in pericolo sogna di lanciarsi nel vuoto e ha una vita assolutamente metodica assolutamente rutinaria in cui manca tutto questo ad un certo punto con un'assoluta naturalezza senza neanche accorgersene senza neanche rendersi conto che sta attraversando un confine smette di sognare a certe cose e comincia a farle e senza neanche rendersene conto la sua vita comincia a diventare più dinamica più appassionante più avventurosa più eroica ma lui non se ne rende neanche conto tant'è che nella sua vita di prima la cosa più eroica che aveva fatto era stata quella di aprire un profilo su un sito di incontri e nel corso del film c'è questo addetto al sito che lo chiama dicendo dobbiamo corredare il tuo profilo raccontami almeno un po di esperienze che hai fatto e lui di fatto non ne ha nessuna da raccontare e nel corso del film ne comincia a fare talmente tante che si trasforma piano piano in un eroe fino a finire sulla copertina sulla prima pagina della sua vita e quindi diventare assolutamente eroico ecco i segni fissi sono anni almeno dal 2018 che sognano una vita diversa ed esattamente come nel nei sogni segreti di Walter Mitty piano piano questo 2023 che diventa 2024 questo plutone che arriva in acquario e dà una spinta a rompere gli ultimi ponti a far saltare gli ultimi tappi ad affermare le ultime verità che non sono state affermate finora permette di cominciare a vivere giorno dopo giorno qualcosa di diverso senza grande clamore senza un fuoco d'artificio senza rendersi conto di aver cambiato pelle semplicemente cominciando a fare cose nuove ed è un uno scenario una trasformazione straordinaria ogni segno fisso lo farà a modo proprio ma adesso ancora presto per entrare nel merito sicuramente per i segni fissi per il toro per il leone per lo scorpione e per l'acquario il 2024 è l'anno in cui si compie una rivoluzione che si va seminando dal 2018 ma che negli anni passati ha incontrato continui sbarramenti continui vincoli continui difficoltà economiche e continue paure di deludere le aspettative degli altri invece il 2024 è un po' l'anno in cui uno dice ma chi se ne frega se va bene a me piano piano me la comincio a costruire nella direzione in cui voglio io andiamo all'ultimo gruppo che è quello dei segni mobili e quindi i gemelli la vergine il sagittario e i pesci che sono i segni che chiudono le stagioni i segni del cambio di stagione i gemelli sono la fine della primavera la vergine la fine dell'autunno e dell'estate il sagittario la fine dell'autunno i pesci sono la fine dell'inverno sono segni di frontiera sono segni che hanno già dentro di sé qualcosa del della stagione che verrà dopo pensate alla vergine settembre un mese estivo tecnicamente ma già autunnale pensate al mese dei gemelli primaverile ma già molto estivo per questi segni a differenza dei segni fissi il cambiamento l'adattamento l'essere eclettici l'indossare le pelli più varie tutto questo non è un problema anzi gli piace una vita ferma una vita stazionaria sedentaria sicuramente li fa sentire bloccati ciò che invece è una è più difficoltoso per i segni mobili e definirsi dire io sono questo non sono altro stabilire dei confini stabilire dei paletti dire all'altro fin qua ti puoi spingere oltre non puoi andare stabilire la differenza tra ciò che è mio e ciò che è tuo poi te lo presto però devo sapere la differenza perché sono cose diverse questo è un mio problema questo non lo è poi ti aiuto ma non lo posso vivere come se fosse mio tutto questo a partire dal 2012 è stato oggetto di continui smottamenti perché è arrivato nettuno in pesci e quindi in opposizione alla vergine in quadratura al sagittario e in quadratura ai gemelli e ha reso i segni mobili ancor più mobili ha reso alcuni confini ancor più evanescenti ha reso alcune fondamenta ancora più fragili e quindi ha creato tutta una serie di situazioni poco solide poco sostenute tutto questo però contemporaneamente aveva il senso nei segni mobili i gemelli la vergine sagittario e pesci di accendere un'aspirazione più alta di riaccendere il sogno gli ha dato la sensazione dal 2012 che certe routine fossero troppo monotone che fossero troppo ripetitive gli ha dato la sensazione di sentirsi soffocati e di aver bisogno di trovare un senso più alto alla vita ancora però non era chiaro come ancora non era chiaro attraverso quale percorso e da lì sono iniziati dieci anni di vagabondaggio dieci anni a girare in un labirinto dieci anni in cui per i gemelli non era chiaro chi fossero cosa fossero in grado di fare dove fossero eccellenti cosa scrivere sul biglietto da visita per cui temi legati all'identità chi sono o chi non sono gemelli temi legati ai rapporti con gli altri che si sono fatti estremamente caotici per la vergine laddove a forza di chiudere un occhio su alcuni atteggiamenti degli altri a forza di caricarsi di fardelli che non erano suoi le aspirazioni della vergine sono rimaste irreversibilmente indietro il sagittario ha abbassato troppo la guardia in qualche modo ha dato fiducia a tutti a volte anche sbagliando qualcuno se ne ha approfittato ne ha avuto dei danni qualcuno ha dovuto raddrizzare la bilancia facendo delle cause riprendendosi ciò che gli avevano tolto difendendosi da certe accuse e lo stesso vale per i pesci che sono hanno ricevuto nel 2012 la visita di nettuno e in qualche modo si sono sentiti pesci fuor d'acqua in alcune dinamiche che non erano abbastanza emozionanti che non li facevano sentire abbastanza realizzati e dall'altra parte però non hanno saputo esattamente come fare a cambiare per andare altrove perché vi racconto questi ultimi 11 anni perché nel 2024 dopo 12 anni saturno raggiunge nettuno il pianeta della regola il pianeta del rigore il pianeta della struttura il pianeta dell'impegno raggiunge il pianeta del sogno il pianeta dell'aspirazione ed è come se finalmente gli desse la possibilità di trovare una strada attraverso la quale esprimere un desiderio che sta lì da 12 anni ma che ancora non ha trovato la sua via di realizzazione e quindi è un po come se questi segni i gemelli sull'identità la vergine sui rapporti con gli altri sugli accordi contratti il sagittario sulle proprie radici su casa propria sul pro i propri spazi che sono stati spesso usurpati dagli altri e i pesci sul fatto di imparare a fare sul serio riuscissero finalmente a trovare una strada e a tornare sul pianeta che gli spetta dopo 12 anni in cui si sono sentiti in esilio in cui si sono sentiti in qualche modo depauperati di ciò che era loro e sballottati su un altro pianeta in esilio e allora ho pensato e questi sono veramente pochi cenni pochi tratti del nuovo anno veramente ma ho pensato che il film che meglio racconta questo è et e naturalmente è la scena di et in cui alla fine l'astronave torna a prenderlo lui per troppa curiosità per troppo desiderio di esplorazione se ne era allontanato e i suoi consimili si erano allontanati lasciandolo lì in qualche modo et riesce a a cavarsela riesce a sbarcare il lunario a creare anche dei rapporti affettivi a stare però di fatto quello non è il suo pianeta si sente un alieno si sente in esilio finché alla fine del film arriva l'astronave e lo riprende è il tempo di salutare e di tornare al posto che ti spetta allora i gemelli rispetto al loro ruolo la vergine rispetto al ristabilire certe regole a rimettere in riga qualcuno a ridefinire certe dinamiche legate al rapporto con gli altri a correggere certi errori del passato il sagittario rispetto al riprendersi i propri spazi spesso usurpati dagli altri al difendersi da certe accuse ad avere finalmente giustizia di un lungo braccio di ferro legale e i pesci sul fatto di darsi un'altra identità il tema dell'anno è che finalmente arriva qualcuno e ti dà un passaggio e ti porta nel posto che ti spetta e tutto questo darà la sensazione a questi quattro segni anche del senso di solitudine del senso di abbandono in un pianeta che non è il loro che hanno vissuto negli ultimi 12 anni se ci pensate dal 2012 la vita è cambiata dal 2015 al 2018 con saturno in sagittario si è fatta ancora più complicata e c'è stato bisogno di rimboccarsi le maniche e aggiustare tante situazioni il 2024 con questo saturno che arriva in pesci e raggiunge nettuno è senz'altro impegnativo c'è da seguire un ritmo c'è da impegnarsi da studiare c'è un esame che ti può far svoltare ci sono delle situazioni che possono veramente riportarti dove meriti ma vale la pena dell'impegno perché tutto questo pone fine ad una bolla di esilio e di isolamento ho volutamente dato tre film per 12 segni 4 4 4 tratteggiare solamente alcuni scenari torneremo sul punto ovviamente tutto questo lo trovate nel libro lo ripeto lo faccio rivedere ma ormai lo conoscete benissimo oroscopo 2024 il giro dell'anno in 365 giorni più uno quest'anno è cambiato anche il titolo perché non è più il giro dell'anno in 12 segni non è più il giro dell'anno in 12 tappe è il giro dell'anno in 365 giorni più uno perché quest'anno abbiamo fatto un cambiamento che per me è veramente l'uovo di colombo per me è veramente la soluzione nuova all'antico problema perché perché di anno in anno avevamo una pagina per raccontare un mese 2000 battute 500 parole anche meno 300 parole quando poi sapete benissimo seguendoci che di settimana in settimana dedichiamo all'oroscopo settimale molto più spazio allora l'interrogativo era come fare a valorizzare al meglio questa pagina che purtroppo più di tanto non può essere grande anche perché non può fare un libro di mille pagine sul 2024 e allora l'abbiamo sostituita con un calendario fatto proprio come il calendario del del mese con 30 31 a seconda dei giorni simboli che cambiano colore e che cambiano forma a seconda dei grandi temi della giornata e poi all'inizio del libro c'è una leggenda una sorta di stelle di rosetta che ti aiuta a decifrare il mensile io personalmente mi sono reso conto che il racconto per simboli è molto più efficace e meno condizionante del racconto scritto anche perché chiaramente poi assume importanza anche la sequenza dei simboli uno stesso simbolo ripetuto ma in gradazioni di colori differenti che ti danno la tonalità positiva o negativa significa che arriva un tema che diventa magari critico e che poi trova una soluzione il simbolo che segue la sequenza magari ti suggerisce cosa ha dato una soluzione a quella sequenza insomma vi renderete conto una volta entrati nel ragionamento che non solo è molto più efficace ed è molto più accattivante che permette anche di sfruttare questa pagina in ogni singolo centimetro quadrato e di farvi riprendere il libro in mano tutti i giorni per questo il giro dell'anno in 365 giorni più uno poi parleremo anche di questo più uno perché veramente l'ambizione era un libro che possa stare sul vostro comodino tutto l'anno e tornare utile tutti i giorni gli anni passati per quanto avessimo diciamo un libro che ci soddisfaceva tantissimo non si riusciva ad avere un'indicazione giornaliera quest'anno ci speriamo allora ultime due raccomandazioni e poi chiudiamo l'introduzione del libro è solo un pezzettino di quello che avevo di quello che avevo scritto raccontando tutti gli excursus storici di plutone in acquario durante nel corso dell'introduzione trovato un qr code puntatelo perché lì c'è l'introduzione nella sua forma più estesa ma c'è anche tutta la leggenda dei simboli che servono a decifrare i mensili e anche quella è più ampia rispetto a quella che trovate nel libro alla fine di ciascun capitolo dedicato ad un segno trovate un altro qr code anche quello puntatelo ma più avanti perché quello sotto natale rappresenterà il nostro video augurio dove ovviamente ci sono anche tutte le sfumature emotive la musica tutto quanto racconta il 2024 quindi tenete d'occhio anche quello e in generale il qr code del libro puntateli più e più volte nel corso dell'anno perché potrebbero anche cambiare i contenuti che ci sono associati comunque per i simboli c'è una leggenda che è trovata all'inizio del libro ma andate anche sul qr code alla fine dell'introduzione perché quella stessa leggenda è più ampia e potrebbe introdurre delle varianti un po per volta insomma abbiamo fatto un libro che va oltre la somma delle sue pagine che esce un po dal suo seminato che ha dei contenuti che si aggiorano e che si espandono e quindi come diceva michael and per la storia infinita abbiamo scritto un libro dove la parola fine non è mai stata scritta io sono felicissimo di questo e insomma vi ringrazio anche dell'amore che avete riservato a questo settimo libro che come tutti gli altri sei senza di voi non esisterebbe io vi ringrazio per essere stati insieme vi ricordo che queste sono solamente alcune piccole suggestioni sul nuovo anno torneremo sul punto dedicheremo tante altre dirette per entrare più nel dettaglio ma se volete diciamo conoscere proprio tutto il mio punto di vista sul nuovo anno lo trovate qui in oroscopo 2024 il giro dell'anno in 365 giorni più uno buona luna nuova a tutti oggi è lunedì 13 se volete approfondire questa luna nuova così potente la trovate sempre qui su youtube e nei prossimi giorni usciranno anche alcune riflessioni scritte io vi ringrazio vi do appuntamento la settimana prossima buona settimana e buona luna nuova in scorpione a tutti vi voglio bene